E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph, e che stai giocando a FIFA 17 E come ben sapete ragazzi, ieri è uscita la demo FIFA è un gioco che a noi piace, ci capita spesso di giocare insieme E abbiamo pensato, perché non provare la demo con i nostri consolini? Esattamente, ovviamente giocheremo insieme, siamo contro Real Madrid perché a me stanno antipatici Anche a me, infatti quando mi ha chiesto che squadra voi contro Real Madrid, mi stanno antipatici Sì, sì, sono d'accordo In ogni caso ragazzi, questo sarà un singolo video sulla demo giusto per provarla assieme a voi Però quando uscirà il gioco, noi stavamo pensando di fare una serie Dove partiremo con una squadra scartissima, piano piano la miglioreremo E cercheremo di arrivare a vincere tutto con quella squadra Quindi ci baseremo su quanti likes, quanti commenti, quanti views farà questo video E decideremo se quando esce il gioco fare o meno la serie A noi ovviamente divertirebbe, sarebbe una cosa un po' diversa Ma noi ci divertiamo sempre a giocare a tutti Che va oltre al calcio, perché come gioca Feriniki e Tuto, tranne che calcio Scivolate, ammazza gente Allora, allora Sì, dimmi Il calcio è un campo di battaglia Ok? Quindi bisogna usare tutti i mezzi possibili per vincere Io ragiono così in tutti i giochi Ok Fatti lui mi odia per come gioca a calcio, non mi sopporta Però sarà bellissimo Quindi ragazzi, tenete presente che non sarà la solita serie di figlia Sì Soprattutto perché la giocheremo in due E sarà più che altro una serie che si concentra sul far migliorare una squadra Quindi con un bel senso di progressione E secondo me potrebbe essere carino Ma iniziamo? Alleniamoci un pochettino prima della prossima partita Ok, ok Facciamo un po' di schemi, quelli tactici, tecnici, super incredibili, bellissimi Cose fighissime insomma Ok, andiamo, andiamo Allora Se Ronaldo sei brutto Allora Sono bellissimo Guarda cosa farei Eh Shushé Shushu Eh Shushé Shushé Io per fortuna son bail Perché non avrei mai voluto Ronaldo Allora tira Guarda, vado Aspetta, aspetta Dove vai? Dove vai? Mi preparo Te l'ha parato E la tiro in faccia al portiere Ok, adesso ci sono anche difensori Si fa più dura Vai, passaggio, vado, corro in porta Vai, vai, tira, tira Ma cos'era? Eh, un tiro timido Un tiro timido Allora, proviamo con un cross Vediamo se così sei un po' meno timida Corro, corro Pronta? Vai, crossa, crossa, vai, vai Vai Uh È storta Ci provo Ok Uh Bella però questa azione Mi ti è piaciuta Vuoi un cross anche tu? Sì Allora, aspetta che mi giro, così la faccio meglio Ok Vieni, vada Spum Pensavo fosse gol Io stavo già esultando Ma ti sembra? Sembrava gol Ok, ci sono Prego Ci sono, bravissima Vada Finte Controfinte Niente Posizionati bene Vai al centro, più al centro Tira Perché hai tirato al massimo? Allora, non riesco a regolare bene la mia potenza Ho le dita troppo potenti Triangolo Triangolo potente Brava Ho le dita troppo potenti Quindi i tiri mi vanno Guarda che gol Ah no, non è colpa mia Ma che dita troppo potenti? Sono troppo forte Quello il fatto Al centro Ci sono Ok, aspetta Aia Mi vuoi picchiare? Scusi Pronta 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 Vada Vai Vada Vai Oh mio Dio è stato epico Ma neanche se ci riproviamo per dieci minuti Ma neanche per dieci anni Era fantastico È stato bellissimo da vedere Come l'ho visto non ci credevo neanche io È stato epico Vai, vai Allora Vai Tini Vai No, era fuori gioco Ma scusi Colpa mia Ma è vero Cross Vai E scusa Si è messo in mezzo a quello Ok Vai al centro Vai al centro Vado, vado, vado Li faccio distrarre Mentre Vai No Che stai facendo? Non ti ho capito Ho fatto il tunnel con la Veronica Sì con te Vai Vai Bello questo Vedi che miglioriamo Bravi Stavo festeggiando e li ho passata Bravi Di nuovo Di nuovo Di nuovo Di nuovo Ben corre Guarda i scivolati Questo se fosse entrato Sarebbe stato bellissimo Lo so Passiamocela tantissimo Te lo dico Sono bravi Li facciamo impazzire Adesso li baghiamo Vai ancora Non l'avrete mai È finito il tempo Iniziamo Iniziamo Ok Iniziamo Siamo contro la Madrid Dobbiamo batterli Non li cioporto Li dobbiamo battere Assolutamente Aggredisci Aggredisci subito 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 Cattivissimi Brava Ancora 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 Allora Non avete ancora capito Chi vincerà qui Guardala come picchia Tutti Incredibile È la mia specialità Guarda Far fuori Ok Ok Prenditela Prenditela Perché mi stanno salendo Ok Allora Te la passo lì Vai Bravissimo Bravissima Allora Aiuto Non lo so Io sono messa malissima Guarda che ho visto Spim Bella Bella Te la ripasso Pronto Non mi sei piaciuta L'avrei dovuto fare un po' più forte Mi è piaciuta Ho passato un altro Allora Signor Steph Non mi insulti Ok Perché io adesso butto giù tutti Ok Così vediamo chi è che vince Allora Per farti perdonare recupera la palla Guardami Brava Grazie Passala però Passala però Vai Ok Girati a giro No Te la ripasso Te la ripasso Mi è venuta l'ansia Va bene Mi sono emozionata troppo Pronta Ti faccio un cross Sì Sì Vai Le piacciono i cross 3 2 1 Vai E' andata a me Scusami Scusami Mi hai rubato il pallone Scusami Ho sbagliato Scusami Scusami Mi hai rubato la mia azione preferita Lo sai che i cross sono le mie cose preferite Le mie azioni preferite E tu me le hai rubate Ok Allora Ci sono Sono libera La vuoi? Sono libera Sì Grazie Grazie Mella No Ma sei pazza È successo un piccolo inconveniente Sì che non me la volevi passare Esatto Che non te la volevo passare Quindi ho fatto un disastro Ok Guardami Allora Ti vedi? Passa 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 Allora qua Dobbiamo fare una prima nostra azione Decente Allora 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 A te Vai Ok Perché ero messa malissimo Fammi un bel movimento Oui Lì in fascia Lì in fascia Corro Corro Al centro Al centro Al centro È il mio momento Sì Uh peccato Di nuovo Di nuovo Ok È rimessa Rimessa Era un bellissimo cross però Dai Non è vero Ok Ok Andiamo su Uh Uh Ho fatto tutto da solo Però c'eravamo quasi Andava bene Tu l'hai passata dalla rimessa Quindi comunque hai contribuito Vabbè io ti do il sostegno morale Quindi È come se ci fosse io Esatto Allora Pronta? Allora Da dove stai tirando? Vedi che c'è quel bersaglietto Ok sì Non ti vedevo Sì sono prontissima Vado Forza Tutto quadrato a palla Ma no È uscito il portiere Il portiere Che è successo? Spacca le gambe Vai ti do il permesso Ci ho pensato io No scusa Non mi puoi rubare Ancora Ma guarda che non te mordono questi qua Sai stanno giocando E lo so però non te mordono lo stesso Bello Bello A chi tocca? A me Vai A me Mio turno Mio turno Allora A te Vai Ok Ma mi sembravi messo bene A te Però c'aveva Calciatore Brava 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 Ok niente Niente devo andare da solo Ci sono Il tiro Fine primo tempo Fine primo tempo Zero a zero Secondo me stiamo giocando meglio noi di loro Dici Sì Io non ne sono Siamo stati più pericolosi noi Sì L'arbitro È d'accordo con noi Non ho molta autostima quando si parla di calcio Ti dico la verità Allora Vai al centro Vai al centro Vai al centro Dammi il giocatore del centro Perché non me l'ha dato Eh Ho sbagliato A lui Che mi sembra bello L'ho messo bene Guardami al centro Vai Ok bravissima Voglio uno scatto Vado Vai tiro da solo Ok Ma ci ho provato È finita dentro la porta Non era male lo scatto È un pochettino più veloce E ci siamo E lo so Ma non riuscivo a trovare quel giocatore Uh guarda L'ho già recuperata Vai Ok È tua Con calma Con calma Bravissima Spim Non male Non male Stiamo almeno provando a fare Non stiamo facendo respirare Capito No esatto Stiamo provando a fare Cosa è successo Non lo so X X Ok Ok Non so cosa sta succedendo Vabbè pazienza Dicevo stiamo provando a fare sempre più azioni Quindi non è male Allora Mirami Allora dove la tira Vai Ok Dove sono io lo vedi Ma non sta fermo sto cosa E la sola devi riuscire a tenere tu Ma che fichi di troppo Uh Spim Eh Bello questo Bella questa azione Sì Denk Se non era gol è stata bella È di nuovo nostra Tocca a te Sì Sì Allora Sei che non mi si muove il mirino Ah no Anche a me prima non si muoveva È perché si muove col sinistro Non con il destro Stavo consumendo No a volte non si muove subito Ti dico la verità Guarda tua palla Guarda tua palla Guarda tua palla Sì Ce l'ho fatta Esulta esulta Arrivo ad abbracciarti Eccomi No ma esulto io qua Mi lancio in terra È stato bellissimo L'incornata Guarda Non credevo in me stessa Ero convinta di non farcele In nessun modo Quindi è stato epico Vedere il gol Che bello Dai siamo in vantaggio Siamo in vantaggio 1 a 0 per noi 1 a 0 1 a 0 Continuiamo Adesso ovviamente Siamo gasatissimi E allora dobbiamo fare 2 E ancora meglio Allora lui non gliela può passare Ma ha detto Ok press pressing Pressing Spacca gambe Allora Signorino Scusi Stiamo calmi Stiamo Ma Ma andiamo via sta palla subitissimo Come l'ho bloccato È fallo No no È tutto a posto È tutto Io chiamo sempre il fallo Lo so notato Sai com'è Magari ci cascano E quindi Non funziona Sai com'è l'arbitro Non ti sente Eccola Grazie Guardami al centro Sì Brava Avanza Avanza Prendilo Prendilo Tieni Tira Quasi gol Dovevi tirare un po' più forte Andava perfettissimo E lo so Ci ho provato Ho provato Mi sembrava abbastanza forte il tiro Invece non lo è stato X Ok Corri 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 Tieni Ma no Vabbè stavo correndo troppo Però troppo No mi è ripiaciuta Mi è ripiaciuta Ho apprezzato questa corsa dritta Apprezzato lo sforzo della corsa Dai concentriamoci che ci fanno golle Concentriamoci Scusi Scusi si fermi Ci stiamo per È quello che stavo dicendo Ci stiamo perdendo in ciancerie E quindi ci stanno per segnare Non deve succedere che faccia nemmeno il gol Aiuto Aiuto Fermalo accidentio Pensavo fosse rigore Ok ho avuto paura Ok Corro Ce la possiamo fare Guarda come corro Vai schiva tutti Tieni al centro Tieni Tieni Con calma Con calma Guardami Allora la ripassa a te Brava Guarda lì Perché mi sento troppo marcata E troppo in ansia Vai Ok Fammi uno scatto Fammi uno scatto Sto scattando Corro al centro Tieni Girati Tiro 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 No non me la sento Tieni Tira Tira tu Tira No 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 Non ci credo Passala 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 Tira Cosa è successo Ma perché c'è successo Allora Questo qua Ok Mi vuole fare Oh No 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 La mandiamo via Momento serietà La mandiamo via Ok Ok Vinto Vittoria Vai 1-0 Non è andato male Abbiamo provato a fare diverse azioni Poteva andare meglio Quello sì Ma diciamo che non è andato male Abbiamo risicato un po' Però ce la siamo cavata Ok ragazzi Per questo video ci fermiamo così Ricordatevi di farci sapere ovviamente Nei commenti Se volete Una serie Esatto Quando uscirà il gioco Contate che esce il 29 settembre Quindi non è una nuova serie Che sta iniziando adesso Avremo il tempo Di finire almeno Una o due serie Che abbiamo in ballo Perché in questo momento Ne abbiamo parecchie In questo momento sono tantine Ma c'è Che fai Non fai FIFA Che fai Che fai L'idea comunque Come abbiamo detto Semplicemente sarà quella Di giocare con una squadra Partire proprio da qualcosa Di scarso Proprio con giocatori Esatto Niente riescono a correre Peggio di noi due Nella realtà Capito Nella vita reale Sarebbe perfetto Partire da una cosa del genere Piano piano Comprare giocatori sempre migliori E arrivare alla vetta A vincere tutto Secondo me sarebbe molto divertente Anche secondo me Si sarebbe da divertirsi Sarebbe davvero fighissimo Gestire una vera e propria squadra Poi farla assieme Sarebbe Esatto A me piacerebbe tanto Quindi fateci sapere Cosa ne pensate Per ragazzi Vi riuscire a condividere Lasciateci un bel like E questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!